Senatore Candiani, qual è la posizione della Liga Nord sulle staminali? È una posizione ovviamente nel lasciare la speranza a chi in questo momento ne sta utilizzando i frutti per poter avere un'alternativa rispetto alla rassegnazione di una malattia che non prevede possibilità di cure con i metodi sperimentati e tradizionali. L'Aula del Senato però che cosa ha deciso? L'Aula del Senato ha preso una decisione molto cauta, quella naturalmente di garantire a chi sta utilizzando questo tipo di cure di poterne continuare l'uso, nello stesso tempo impostando una futura scelta di regole e di protocolli che possono garantire a tutti i cittadini di accedere a queste cure ma certamente con dei protocolli che siano ovviamente validati e valutati in tutta la loro efficacia. E' quello che state discutendo in Commissione? In Commissione si sta discutendo sia di aspetti procedurali, in questo caso naturalmente bisogna tenere conto anche dell'obbligo costituzionale di dare lo stesso tipo di assistenza e lo stesso tipo di garanzia a tutti non solo a coloro che in questo momento hanno iniziato un percorso e vogliono concludere il percorso continuando a giovarsi di queste cure compassionivoli. E nello stesso tempo ci si approccia anche ad affrontare il tema dal punto di vista proprio di tutta la sua complessità. Le cellule staminali sono una nuova frontiera della cura, certamente complessa, certamente da articolare e non da normare semplicemente su un'onda emotiva. E' un tema di stretta attualità comunque. Come si sente di rassicurare le persone che vivono in prima persona questo problema? Innanzitutto dicendo che il Parlamento con la disposizione che ha preso ha detto che chi ha iniziato un percorso in questo caso i giudici stessi che erano intervenuti per colmare il vuoto normativo avevano già dato un'indicazione e lo può continuare. Ovviamente ci sono anche dei tempi, i tempi devono essere stretti, bisogna dare delle risposte concrete. Abbiamo detto a più ripresi in Commissione e anche in Aula che non ci si può prendere i tempi della politica per poter decidere fra qualche anno, fra qualche tempo, fra qualche mese o fra qualche secolo. Bisogna decidere velocemente. Queste sono le risposte che i nostri cittadini ci chiedono. E in questo caso il Parlamento credo che responsabilmente stia iniziando un percorso al di là delle difficoltà, della mancanza delle commissioni e tutto. Un percorso consapevole, tempi stretti e scelte certe. Altrimenti è veramente un guaio perché vuol dire che la politica non sa più fare la propria parte.